Mi piacciono un sacco, fucsia così, 10 euro, 36, il numero 37, ah 37, avevo letto 39, invece no 37 non mi sta, però è bello, in paglia, per la pioggia non va bene, ma è bella, 39, ah 39 c'è ma non è nera, è fucsia, c'è solo questo colore così, ma quanto sono belle però, e senza calze, le potrei anche mettere, se ne impaglia, però per la pioggia patiscono, 39 c'è fucsia cazzarola, 39 c'è, sono bellissime, ma con cosa le abino? Vuoi mangiare gli arancini, se vuoi mangiare gli arancini lì? Ma è chiuso a lunedì, ah hai guardato? Eh mi sa di sì, ah boh non me l'avevo idea, ci avevo scritto l'altra volta a lunedì, che è chiuso? Allora andiamo al Curde, con l'aspirapolvere, mamma, qui c'è una all'8 e mezza, eh qua sì, fa anche la piedinaria, qui c'è una all'8 e mezza, allora, e dentro al Benet, che caldo, siamo andati da Teddy, e da Piazza Italia, proprio quel vestito che avevo visto tre settimane fa, leopardato, con i bottoni, che figo, c'è anche gli spacchi, io ho delle gambe bianche, ma andrei, stai un po' sul balcone, sono un latticino, cazzo, devo prendermi la crema solare, per stare sul balcone, sennò divento rossa come un gambero, mi ustiono da far paura, però che se non vado al mare, vedi, se andavo al mare, se andavo al mare, mi abortavo un po', che al mare è sempre ventilato, e non soffri il caldo, invece qua, bocchetto, poca maglia nera, io devo comprare cose in tinta unita, compro le cose leopardate, benissimo, brava sarei, brava, bravissima, sei molto alla moda, E' 7.40, va un caldo della Madonna, guarda i soldi che si farebbero, se io li chiamassi, quattro macchine di seguito, se io li chiamassi, non so cosa si hai visto, ma invece di far tutta la strada, c'è gente che taglia, appena esce dal Bennett, taglia per non far tutto il giro lungo che stiamo facendo noi, Che brutta roba, sembra Sofia Lora, in questi occhiali, chi sembra? Ma sì, più o meno le aveva così, è vero, beh diciamo che non sono tanto adatti, eh Serena, perché ti rovinino, se non hanno le tue idiotrie, il modo per rovinarsi gli occhi è quello. Ma è per non farle le rughe, perché ho letto che quando c'è il sole e tu fai queste facce così strane, se c'hai le rughe tu hai 20-30 anni, figlio mia. No, ma guarda, col sole contrai gli occhi, stritti gli occhi, li contrai e vengono delle rughette sotto gli occhi, perché fai, fai tutte il sole. Sembra in te, e allora con gli occhiali da sole copre gli occhi, non dà fastidio il sole, non fai facce strane. E non ti vengono più rughe di quelle che abbiamo già normalmente. Inizio con 30 anni. No, ma non io, in generale. No, ecco. A qualsiasi età, o letto. O letto così. Stai con gli occhi aperti, con gli occhiali, copre, non dà fastidio il sole, non fai facce strane, non stropicci gli occhi, non gli strizzi, non ti vengono più rughe di quelle che si hanno normalmente. Andiamo a vedere l'aspirapolvere, mamma, l'aspirapolge. Sì, a che non sia un ciarafi, un ciarafi, un ciarafi, un cesso, come direbbe mia nonna, che non vale niente. 15 euro, 15 euro per la macchina, forse sì, con le barronate, con le batterie. Io non devo andare in giro, te lo spero, tutti. Esci, vogliono ricomprare? Boh, andiamo a cercare questa maramellata di albicocche, perché è un buono. All'emd ci sono i coprivolanti, i coprisedili, anche la pompetta per gonfiare le ruote alla macchina. Quello spero di non devele usare. C'è di tutto e di più, ci sono i mochi, il sushi, che mi ha detto Agatha, i mochi gelato e li vorrei assaggiare. Dove? All'emd, anche al lidl ci sono, alpeni ci sono. Ovunque ci sono i gelati. Ma oggi è lunedì, è lunedì, per tutto il dì ci sono le offerte oggi. Poi dicevamo prima, le offerte, le offerte, ma anche martedì di solito andiamo e non troviamo mai niente. Martedì sono andata varie volte e non trovavo niente in offerta. Iniziano lunedì le offerte, sì, poi non trovi niente. Pensa venerdì o sabato far la spesa, non trovi niente? Non c'è qui niente, sì. Le offerte, non trovi niente, far la spesa di domenica. O vai nei grandi centri commerciali a fare la spesa nei weekend, oppure se vai nei discount sabato non trovi qui niente. Sono belli sti occhiali, mi piacciono. Però faccio dare gli occhi. Pensa agli occhiali da vista. Mamma mia. Devo aggiustarmi sti capelli. Meno male che sono corti. Pensa quando li avevo lunghi fino al sedere. Quanto tempo ci mettevano ad asciugarli? Con 30 gradi? Povera me. Ah beh, li metti al sole, si asciugano. Meno male che li ho tagliati. Anche male, ma li ho tagliati. Almeno corti si asciugano più in fretta, anche senza phone. Due secondi al sole. Invece lunghi. Non so, mi dico una cosa. Ma palle. Non so, mi dico una cosa. Oh. Li perdo, anche se li tagliati li perdo. Però ho preso sto vestito, che figo. Trovassi le spadriggas nere. Perché c'erano da Piazza Italia, ma 25 euro. Alte con la zeppa. Che belle però le spadriggas. Le avevo viste fucsia, ma 10 euro. 10 euro mamma, no. 10 euro. Non te lo consiglio, no. E poi mi fanno male i piedi. Mi costano troppo. I piedi. Troppo poco. Fanno male i piedi. Dai 20, 25 in su puoi provarci. Ma 10 euro sono proprio buttate dalla finestra. O da prima donna che costavano 50 euro. 95, sì. O 49, 50 euro. E 24 euro da Piazza Italia. Sempre uguali. Nere, tutte e due. Vabbè, 24 non sono male. Una più bassa, una più alta. Però sono in paglia. Io le scarpe di paglia, a parte che le ho già. Quelle rosse, non ti ricordi? Con l'ancora. Uno sono di paglia. E le spadriglia se le ricompro di paglia, così quando piove mi bagno i piedi. Vabbè, che anche con queste qua che ho addosso mi bagno i piedi. Anche le schecce, la commessa prima, ha detto che non sono andate alla pioggia. È lunedì, sono le 8. Chiudo alle 9, l'MD. Cerchiamo la spirapolvere, non c'è. E' altro che offerte, non c'è niente in offerta, la lanterna. Tappetini per auto, la pompetta. Copre il stradine magnetico. 15 euro, l'ho letto sul volantino. Trovato la spirapolvere, ma di offerte sul volantino, di roba, da mangiare non c'è niente. E vuoi prendere, mamma? Sì, bravo. Mi serve più di tutto il resto. Non ce l'hai la spirapolvere? Piccolo così? No, ma non funziona. I gelati sono in offerta. L'unica cosa in offerta sono i gelati. Guardate, neanche 2 euro. Il yogurt greco. Sì, in offerta. Gli altri costano 2,69. 3 sono in offerta. Il gelato proteico. Sì. Hai proteine. Gli altri non sono in offerta. Non è buono. Il croccantino, guarda. Croccantino. Croccantino. Il croccantino li compravamo, ti ricordi? Il croccantino. Però quelli di marca. Il tralinato, tipo il... Il mandorlato? Tipo quello dell'idoli. Groovy. Il cioccolato bianco, lo puoi mangiare tu. Il mandorlato bianco. Questi qua sono in offerta. Mamma mia. Non sono in offerta. Peccato che non ho preso in offerta. Il resto non è in offerta. L'MD di offerta sono i gelati. Ah, i moci. Uno solo alla vaniglia. Madonna. Sushi, coppa del nonno. Moci e la vaniglia. 3,99. Ah, i farzoletti. 1,49 euro. La carta igienica. 10 rotoli. 3,19 euro. Io l'amorriscia. Au. 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 Alla romana, au. Che te sgargaro così? Sti capelli mi devo aggiustare, che me lo schifo. Mi devo lavar. Mi ho asciugato a mare. Un po' lunghi, un po' corti. Volevo mettermi un rosetto, non l'ho messo. Andiamo a mangiare il Burger King. Hai visto che c'è Inside Out? Quello del cartone animato delle emozioni. Bellissimo. Ho già visto il primo, è un fighissimo. Il 19 giugno, è c'è domenica. Ecco. Fighissimo. Il 6 quel. Ah, preti sedano. Devo ancora vedere il film di Amy Winehouse. Devo piangere un po'. Voglio piangere un po'. No. Vedere il film di Amy Winehouse. No, io non lo riesco. Non vuoi vederlo il film di Amy Winehouse, mamma? Amy Winehouse. Senti che aria. Vuoi mangiare buoni? Che bello. Dobbiamo uscire alle 9 per avere l'aria. Vediamo se mi sciolgo questi capelli siudati, se è meglio che averli legati. Ecco, se ho un petino ce l'ho. Sono corti. Ma tutti erano fatti, poi c'è il vento. Aria di casa mia. Ma sì, andiamo a mangiare un panino. Guarda che bella va la macchina. Fast and Furious, qua la parcheggiatana. Ah, sì. Bellissimo. Occhio tu. La devo sempre tirare su. Ma mi fa passare. Sì, vabbè. Però... Mi fa passare. Se arrivavano un po' più forte, diventavi sottiletta tu, eh? Sottiletta? Così mi mangiavi. Ma no. Tu puoi mangiare il formaggio. No, direi proprio che... Non mangi le sottilette. Non sono ridotta così male, eh? Non mangi le sottilette. Eh, lo scarto del formaggio la sottiletta. Eh, infatti sono anni che non la compro più. Ecco, lo scarto del formaggio. Io ho provato sto vestito, leopardato, la piazza d'Italia, ma ho le gambe bianche come il latte. Sei bianca? Neve. Bianca neve, come la pizza. Come la pizza. Bianca neve. Ha fatto la battuta. È bella sta macchina. Stupendo. Quando parte fa... E' tipo Fast and Furious bellissimo. Grigio. Che belle sta nuvolta. Non si vede? Senti che profumo. Ah, sì. Con le nove. Di carne alla buona acera. Io non le 11 sta aperto il burger. Sì, mi sembra. Il Burger King. Voi mandato al Burger King? Stamaglio, per me è scollata. Poi magari non è scollata, ma è scollata. Vecchia come me sta maglia. Vuoi mangiare dentro o vuoi? Oh, vediamo. Vediamo. Vediamo come si sta dentro. Dentro farà caldo. La prossima volta parliamo la torta alle fragole. Anche se c'è il latte. Guarda il panino col cetregolo. E sono tutte uguali. Sia devo il cheeseburger il tuo che il mio. Ah, sì? Questo non ce li ha. Ah, no, è il tuo. Mangiare alle 9 di sera al Burger King non c'è nessuno. No, non c'è scritto mini. C'è scritto sweet king caramello, mamma. Hai solo preso il caramello. Dall'altra parte. Ma il latte io non è... La panna, mamma mia. C'è la nausea col torcetto di prima. Penso che non c'è niente di zucchero. C'avrà due cucchiaini di zucchero con la parola. Eh, c'è il latte. Ah, vabbè. Il zucchero non mi imprega niente. Secondo me la tua è una forma nervosa. Eh, non credo. Perché tu non sei mai stata allergica a me. Eh, non sono neanche mai stata anemica. Invece sono anemica. Oh, mamma mia, è buio. Sembra già alle 3 di notte. Sono 10. Mamma mia, come è buio. Ciao. 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 Ciao.